Il team colonnese promotion presenta un international prestige fight di Muay Thai sulla distanza di 3 round, valevole per la categoria 51 kg. Arbitra il signor Marco Pacor di Roma, all'angolo blu, al peso di 50 kg e 900, con un record formato da 55 incontri, 42 vittorie per lui, 38 dei quali per K.O., 13 sono le sconfitte, pluricampione internazionale, ICO World Champion, WBC International, campione per la Muay Thai, per il team Black Widow, da Londra, Inghilterra, Paolo da Silva. Il suo avversario, all'angolo rosso, al peso di 51 kg, con un record formato da 75 incontri, 50 vittorie per lui, 10 dei quali per K.O., 20 sono le sconfitte, 5 i pari, già campione mondiale di Muay Thai, già campione mondiale di K1 Rules, già campione mondiale di Low Kick, per la categoria Besi Mosca, per il team Marchetto, da Firenze, Italia, Gian Pietro Marchetto! Sous-titrage Société Radio, E' la prima ripresa, first round. 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 E' la seconda ripresa, first round. E' la prima 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 ripresa, first round. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.